Porta la tua attività sulla più grande web tv della provincia di Pavia. Mezzo milione di persone hanno guardato JabTV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart tv a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot.jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Buongiorno, oggi parliamo di questo progetto presente al padiglione Slow Food di Expo. Il nome è Voghera Sociale e Orti Sociali ed è un esempio vero e proprio di uno spazio di aggregazione per tutte quelle persone che necessitano di un reinserimento all'interno della società. Ce ne vuole parlare meglio, gentilmente? Sì, il progetto è nato nel marzo dello scorso anno cercando di unire due mondi che mi appartengono. Quello dell'agricoltura, provengo da una famiglia di ortolani storici su Voghera, e quello del sociale che è la mia professione. Ritenendo che le persone che hanno un certo tipo di disabilità, di difficoltà, possono esprimersi attraverso il progetto dell'agricoltura sociale. In questo anno abbiamo accolto una quindicina di persone che i servizi come l'ASL, il carcere o i piani di zona, il comune hanno inviato. E attraverso il contatto con la terra, attraverso la presenza nello spazio aperto, il dialogo, la relazione con gli altri, il vedere che effettivamente ci sono dei risultati partendo da un seme. È un po' lo specchio della vita. E di conseguenza dal punto di vista terapeutico e rehabilitativo abbiamo notato dei risultati molto interessanti. Il progetto è cresciuto molto in questo anno. Tutto quello che noi facciamo lo facciamo come una volta, di conseguenza lo facciamo con metodi naturali, non utilizzando nessun prodotto di sintesi. Abbiamo una filosofia a chilometro zero e facciamo tutti naturalmente i prodotti secondo le stagioni. Abbiamo sviluppato una rete di vendita, principalmente con i gruppi di acquisto solidali, attraverso la rete di Campagna Amica e i privati che vengono a comprare direttamente in cascina da noi, raccogliendo la frutta e la verdura fresca dal campo, accompagnate con i ragazzi che in questo modo sviluppano un'ulteriore sensibilità nella relazione. Quali tipo di problematiche hanno queste persone e quali giovamenti possono trarre da questa esperienza? Le problematiche sono diverse. Noi accogliamo ragazzi con disabilità mentali, disabilità fisiche, accogliamo ragazzi con un passato di alcol dipendenza o di tossicodipendenza o persone in articolo 21 che provengono appunto da un'esperienza del carcere. Oppure anche attraverso altri servizi come l'ufficio di soccorso della penale esterna, sono lavori socialmente utili. Il bello è unire tutte queste esperienze di vita in un unico obiettivo, cioè quello che la persona può reinserirsi nella società e attraverso un percorso anche di formazione che facciamo agli orti sociali riuscire poi a trovare qualche sbocco nel mondo del lavoro. Soddisfatti perché su 15 persone 5 hanno trovato un lavoro non solo presso di noi ma anche presso altre aziende agricole avendo maturato un certo tipo di esperienza. Quindi funziona, il progetto funziona. Da Expo a Voghera perché domenica 6 settembre ci sarà presso il centro Hauser una cena dedicata al peperone verde di Voghera. Come è nata l'idea? L'idea è nata appunto perché siamo in questo anno di Expo e cercare di valorizzare il nostro prodotto tipico e da anni dimenticato, non più utilizzato sulle tavole dei Vogheresi siamo riusciti, grazie anche a un'azienda agricola di Andrea Olezza di Ghiaia di Corana che ci ha dato le sementi, a mettere i peperoni di Voghera. Perciò abbiamo organizzato questa cena di domenica sera a Lauser tra l'altro rigorosamente in dialetto faremo anche sulla Locandina ho visto anche sulla Locandina proprio per recuperare non solo il peperone ma recuperare tutta la tradizione storica di Voghera.